E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, e che se giochiamo? Escape Hike School? Ovviamente, come da nome, dovremmo scappare da una scuola Cambiamo un pochettino ambientazione, scappiamo sempre da posti diversi e non vedo l'ora di iniziare Esattamente, sappiamo che ci sono che io escape 2, 3, 4, 5, 15 Ci sono un'infinità di escape, ragazzi, però vogliamo cambiare un po' di ambientazione Se vi piacere anche questo, ovviamente, continueremo anche con i che io escape Quindi è diciamo un test, speriamo che vi piacerà Iniziamo subito un test, dato che siamo a scuola Ho 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 Che burloni Oh mamma mia, livello 1, livello 1, vediamo un po' Oh, ciao Wow, freshman, what are you doing here? Allora, a quanto pare c'è un'evacuazione Sì, esatto Quindi dice, ma cosa ci fai qua? Non hai sentito che c'è l'evacuazione Quindi ce ne dobbiamo dire, c'è pure la storia Dove lo trovi in escape con la storia? Proprio storie E poi guardalo, guardalo, è un gangsta come me Siamo fratelli Abbiamo una stanza Hai notato che ci sono un sacco di poster di rapper? C'è tipo Eminence, non vedo male Apriamo semplicemente la porta, no? Ok No Perché tu dici, dobbiamo andare Ok, no Sì Allora Sì La nostra scrivania Ciao Rian, ok Allora, dice che la batteria è scarica Questo è addirittura chiuso Chiuso Ok, bene, partiamo bene Il cestino non me lo fai cliccare? No Quindi il cestino non possiamo controllarlo Allora, guarda l'armadietto Le scarpe Uh, ho preso un filo Guarda, c'è anche la chiavetta Ecco, esatto Volevo dire quello Io totalmente a caso, te lo dico Sì, ha usato C'è lui che ti dai consigli Tu che lo ignori Perché dici tanto lo sappiamo Siamo più gangsta di te Sappiamo già Abbiamo giocato anche in escape 1 Non ne vogliamo noi suggerimenti Ma poi, ma poi Con tutti gli escape che facciamo sempre Cioè, siamo esperti Esatto Allora, sicuramente dovremmo iniziare A dare un senso A quello che abbiamo appena trovato Sì Stiamo partendo male Forse i suggerimenti del nostro Oh, ah, giusto Ah, ecco Il cerchio batteria Ok Ok Devi combinare la presa con l'adattatore Te l'ha appena detto Vedi che è illuminato Ta Ta E adesso Perfetto Dobbiamo mettere la chiavetta Sicuramente Sicuramente la chiavetta 3982 3982 È un codice? No, ma Che ti sta succedendo? Perché lo vedo strano? Cioè, tu non vedi strani questi numeri? No Stai scherzando? No, stai scherzando tu Lo vedi che il 3 ha una stanghetta in più? Sono i numeri della sveglia Sono i numeri digitali Cioè, analogici, digitali Non mi ricordo come si chiamano Mi fa un effetto strano Cioè, fino a quando tu non l'hai letto Non riuscivo a leggerlo Cioè, non ho mai avuto un orologio con i numeri 3982 Una sveglia No, no Ok No, no, guarda Stai passando, ragazzi Cioè, sta diventando passando 3 9 8 2 Chiave Ok E quindi possiamo Mamma mia che cosa strana che è stata Se mi lascia via solo non avrei Good job Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ok Quindi adesso noi dobbiamo andare in quest'altra stanza Seconda stanza Dobbiamo fare tutta Vedi? Che poi più che una scuola è un'università Metti la sveglia Metti la sveglia Vedi i numeri come sono? Che non capivi? Io non lo so Ho sempre usato il telefono come sveglia Lasciami in pace Allora, sì Penso che sia il campus di un'università Di un liceo magari in cui c'è bisogno di un dormitorio Qui c'è una cosa per cui ci serve il cacciavite Ok Ok Mi fa fisso cliccare questo anche se clicco altro Qua serve qualcosa per far funzionare questo joystick Una batteria Così giochiamo i videogiochi È bello Il cacciavite Cacciavite Cd che non abbiamo Che non abbiamo Cassetti non me ne hai fatto tocare Allora, fai una cosa Voi un attimo nella sveglia una cosa che ho notato Sì Vedi che c'è un orario Impostiamolo Le otto e mezza Le otto e mezza Quindi vediamo se succede qualcosa Quindi qua devo mettere zero Otto Qua otto Sì È trenta Trenta Cioè c'è qualcosa Guarda se si apre il mobile o qualcosa del genere Perché vedi che c'è il cd che ci serve Sì, però non si è aperto Ok, no Allora la sveglia non si usa in questo modo Mi è ripiaciuta però non ha funzionato Quindi apriamo qua batteria per il joystick Però dice una di due Quindi mi sa che servono due Allora, guarda questo quadro Aspetta ho trovato qualcosa La vedi con la borsa? Sì Non me la fa cliccare Io dicevo quel quadro in alto Mi sembra molto strano Sì Bravissima Mamma mia Sei in forma Eh, qui c'è capito Della professionalità Della professionalità Vai Sì, 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 assolutamente Ok, adesso Probabilmente per far funzionare poi la console Credo Assolutamente E se ti dicessi che abbiamo sbagliato con l'orario? Perché? Guarda Dovevamo mettere oltre 30 di sera Non ci abbiamo pensato Che problemi mentali abbiamo ogni tanto? Non lo so Non lo so Io avevo pure detto che tu eri in forma No, in effetti bisognava anche pensare al Vabbè Vabbè Comunque non è colpa mia New game Sai qual è il problema? Ahà Che ad esempio, tipo in America L'orario si differenzia solo con AM e PM Aspetta Ma sto spiegando Ma guarda Sei odioso Scusami Devo battere il computer Allora Facciamo Io sono bravissima Tetris ma non ti aiuto perché non mi hai ascoltato Io faccio pareggia vita se non mi dai una mano Esatto Ta 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 Ok 7, 4, 2, 9 Qua c'è stato un party Un beer pong hanno fatto qui Eh vabbè Ma pure nel soffitto l'avete fatto Gli avete attaccati No, ditemi che non è un codice questa roba ragazzi eh Vi prego Vi prego Me ne vado subito se è un codice quella roba Allora Frigo Forse dobbiamo contare quanti bicchieri gialli Quanti bicchieri blu e quanti bicchieri verdi ci sono Mi sembra sensato Mi sei piaciuta Allora vai Aspetta Fammi attimo a esplorare il resto Gialli sono 1, 2, 3, 4, 5 Sì Verdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 3 blu Credo Ma li sono già dimenticata Accidenti Allora aspetta Forse ce la faccio Forse Stefano 5 Uhuhuh Bravi Eh vabbè ma questa è ghiacciata Che si fa E la dobbiamo spaccare? E suppongo di sì O sciogliere Quindi ci serve un oggetto Ti ho detto che non dovevamo partire da qua Dobbiamo prima esplorare un po' Sì ma già abbiamo Almeno ti sei tolto di mezzo i bicchieri Cioè che li voli di stare a conto a due ore Ok Qui non mi fa fare nulla Allora Forbici Bomboletta Qua c'è di nuovo qualcosa eh Sappilo Però Per ora Ah ho preso una pallina Ok Ok Allora vediamo un attimino No No ovviamente con le forbici no No Ok E questo no Perché magari dobbiamo fare qualcosa Ah ok Abbiamo preso un tubo Sì Con le forbici Vedi l'hai tagliato ora con le forbici Esatto Certo 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 E allora il tubo servirà lì per porta Poi quindi facciamo qua così Perfetto Qua così Ecco vedi serviva Accendino Accendino per la chiave Combinato a questa facciamo la fiammata Eh ma esagerati Cioè ma roba che ti esplode casa con una cosa del genere Ma io la facevo per giocare Accendi l'accendino Sì ma non si fa Spari E fai il lancia a fiamme Consolini non fate Lui non l'ho mai fatto perché c'è il rischio che la bomboletta vi esploda in faccia Davvero? Sì Ah C'è scritto Allora dietro nelle bombolette E vabbè Per conti come te c'è scritto di non avvicinarle a una fonte di calore Tu ci metti il fuoco Cioè vabbè Intanto Non hai mai avuto le prezze di avere un lancia a fiamme tra le mani Che non ti esploda in faccia guarda Peccato Siamo arrivati ai bagni? Sì Ok First aid abbiamo Primo soccorso Primo soccorso Codice Però c'è un codice Qua dice doccia ed è chiuso Qua invece è aperto Manca la manopola Ma manca la manopola dell'acqua calda E l'acqua fredda noi non ce la facciamo Vabbè 1C Diviso 2A per 3A 4 più 5B 5 per 6 Fa 30 Vedi? Perfetto Sì sì Abbiamo risolto No non l'ho capito Non l'ho capito Fatto fatto Ma stai zitto non hai fatto niente Abbiamo già fatto Allora cerca qualche manopola Guarda che bel tubo Wow Ok Sì E quindi Che è blu Uguale a qui blu Oh Hai aperto un'altra porta Sì ho usato la La Cosa non ho La graffetta La graffetta Per aprire Con Luca E ho detto Meno male che ci sono io Allora vai nel tubo Tanto sicuramente dobbiamo aprire il tubo Esatto Fai fare a Steph 7C Ah non lo dovevamo fare Perfetto Che possiamo mettere qua Alleluia Che Che No No dobbiamo farlo Allora 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 Aspetta Hanno la stessa tonalità Di colori dei blu Quindi secondo me Li dobbiamo disporre Esattamente come sono disposti I blu Capito Io me ne vado No ho capito Ho capito Ascoltami Allora Devi mettere No Mi devi far rivedere Quella scala di colori Perché non me la ricordo a memoria Fammela vedere perché ho capito Vai Se tu dici che l'hai capito Guarda Allora Chiaro Medio E' un po' più scuro Poi Uno scuro Ma non troppo scuro Che potrebbe essere questo Quello E' quello più scuro Facciamo così Così Esatto Aveva il tris Esatto Poi Fammi rivedere la scala Perché non mi ricordo se i lati c'erano i più scuri Così No Non era No Prova ad aprirlo Scusami No Ha fatto un suono Ha fatto un suono qualcosa Secondo me No E' l'ultima Scuro Più scuro degli altri Un po' più chiaro Un po' più chiaro Allora questi vanno di così Perché per forza ti ricordi C'era la linea dei tre uguali No aspetta Però Non mi fa più cambiare nulla E' andato Il nastro Il nastro Servirà qualcosa Però è andato È giusto Avevo capito Era molto complicato Ma avevo intuito Ok Ho capito Sì Per il codice a tre cifre Dobbiamo fare le operazioni Nove diviso tre per due Ok Cinque Capito Abbiamo le tre cifre Ci sono Tu ricordi i numeri E la regina Degli escape Tu ricordi i numeri Ok Sei Ok Sei Sette Sei Sette Due Sei sette due Vai Sei sette due Sei sette due Sei Con questo Grazie Tagliamo qui Devi tagliare sicura E vabbè E si apre la porta Complicato questo Tra combinazioni di colori Operazioni Un applauso a Ferinichi Grazie Grazie Senza di me Non saremmo usciti fuori da questa stanza Senza dubbio La grande Ferinichi Io ci sarei rimasta vita Guarda Stavolta lo ammetto Mi faccio proprio anche complimenti da sola Proprio la modestia Secondo me non esiste Ok Pronti Pronti Numeri Alcuni accesi Altri spenti Sì vabbè Ecco 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 Aspetta X più Y Non uguale 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 Sono disposti esattamente come i numeri Come i caschi che abbiamo visto I numeri Capito Quindi questo è un po' complicato Anche perché sono tutti X Ok Non troppo sei tirato fuori questo È alla sinistra dell'altro Cioè abbiamo questi due schemi nel biliardo Ok Giocare semplicemente a loro non piaceva Non comprendo Ok La moneta La moneta la devi inserire La inseriamo qua Sì Ci vuole la leva per Trattranno Ok Non posso usare Scusa non ci mangio le monete però eh Mi dacci la monetina che siamo poveri Ho pensato un attimo una cosa Ok dimmi Non è che posso spaccare? In effetti Non l'avevi cliccato? No Pensavo ci avessi già provato Ok Quindi il casco lo scommolo devi mettere al centro Proprio al centro lì Ecco Ottanta Ok Ottanta Che ti dirà questo Aspetta Adesso questo Ha a che fare per forza con questo Però lì è novanta Ok Dobbiamo ottenere ottanta come risultato Sì Allora Capito Capito Allora 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 Questo è compito tuo Eh non è che ti hanno dato proprio numeri semplici per fare i calcoli E in effetti questo è anche l'X e Y che era più Proviamo Allora un attimino 52 più 18 fa 70 Più uno 80 Go Wolfs go Andiamo Perfetto Perfetto Comunque sono stato fenomenale Ah io nei calcoli voglio aver cliccato a caso Finché non sarei riuscita ad avere la combinazione Ok Adesso ci manca questa macchinetta A che è servito Ti chiedo perdono Avevo cliccato male E in realtà potevo usarla L'avevo detto che serviva per tirare giù Chiedo scusa Chiedo scusa Vai muoviti Da Bonus Ok Tre campanelline La tessera Bonus E a che ci serve X più Y E XY Ok Erano i due numeri Quindi io direi di provare a fare 4 più 5 2 più 0 che fa 2 E 3 più 3 Capito Quindi 9 2 e 6 Proviamo così Ok Allora 9 2 e 6 E non succede nulla Aspetta un attimo Me lo annulli Ok Grazie Grazie Sento gli applausi nelle mie orecchie Mi ritiro Perché davvero me li merito È troppo brava Ormai siamo esperti Hai visto le scarpe con dei codici No Ma qui Che possiamo No 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 Io questo escape Guarda gli do una stellina Ma smettila È più bello se sono difficili Altrimenti che gusto c'è Mezza stellina Perché stai perdendo Un quarto di stellina Se non ci fossi io Saresti al secondo livello Allora Qua sono lo stesso Sono delle maglie Deco delle lettere Ho capito Dobbiamo metterle In base Al giocatore Dici Sì perché vedi che hanno le iniziali D B B Allora Devo recuperare un po' di punti Da Ferenichi D B B Ok Ok Allora Però le molliamo così Mi sembra corretto Quindi dici Contare i calciatori Devi contarli Tipo il primo è quattro Secondo me è così Quattro Questi sono Uno Due Tre Quattro Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ok Poi Uno Due Tre Quattro Cinque E quattro Esatto E poi metti i colori Quattro I colori erano Celeste Giallo Verde Rosso Giallo Verde Rosso Giallo Verde Verde Rosso No non mi puoi dire che non è così Era geniale Ho dovuto guardare un suggerimento Perché ci mancava un passaggio Devo ammetterlo Siamo rimasti fermi Dieci minuti E non sapevamo più che cosa fare Allora Ok Le scarpe servivano a qualcosa Però non servivano per il quadro dove eravamo Ma serviva per questo Tu qui puoi spostare i numeri Ah ok Quindi dobbiamo fare gli stessi numeri di queste scarpe Quindi sette tre due Uno sei cinque Allora Sette Tre Due Uno Sei Cinque E poi dobbiamo avere gli ultimi che sono Nove quattro otto Allora Nove Quattro Otto Non è colpa mia Ho il cervello fritto Guarda non ci capisco più Ecco sta cosa che è Non ne ho idea Non ne ho idea Oddio Credo che dobbiamo riuscire a portare il rosso al rosso Capito? Eh sì Per forza Per forza Come faccio? Andere Stavo cliccando cosa cazzo e è finita Comeli faccio? Tutto cliccato a casaggio Ok Uno Mamma mia No io ragazzi No mi sta venendo un mal di testa incredibile Ti dico la verità Mi sta davvero stancando Non me lo aspettavo così difficile É finito? Ce l'andiamo? È finito? Ce l'andiamo? Per favore Sì Vabbè dai è il bello È il bello vederci impegnati Facendoci venire mal di testa Cercando di risolvere E dopo una bellissima pubblicità Direi che ci possiamo fermare Manca qualche livello per finirlo Ovviamente lo continuiamo in un prossimo video Speriamo comunque che vi sia piaciuto È stato davvero estremo rispetto all'altro Vabbè ci stava Ci ha allenato la mente Alla fine sì Comunque il bello dell'escape È proprio impegnarti Cerverlarti Non so come si possa dire Perché adesso non capisco più nulla Però secondo me è meglio Rispetto a quando sono molto molto semplici Magari l'avrei fatto più in là Quando eravamo già più preparati Ho capito che non siamo degli esperti di escape No vabbè Abbiamo ancora da mangiare del pane qua Secondo me ce la siamo cavata bene Tra le mie idee e le tue ce la siamo cavata bene Comunque siamo arrivati a livello 7 Secondo me Ci siamo arrivati proprio zoppicando lì Un po' strascini Un po' zoppichi Però ce l'abbiamo fatta Speriamo davvero che vi sia piaciuto questo video Speriamo che vi sia piaciuto questo escape E ci vediamo domani Spera che ci riesce Dici un giocatore Sentici un bel like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Spera che vi sia piaciuto il nostro video